C'è il suo amico Breton che oggi non c'è perchè l'hanno adottato dai ragazzi di Sky L'hanno vinto e l'hanno adottato E quindi viene ogni tanto Ficché loro possono lasciarlo a casa Lo lasciano a casa La sette volte lo portano Ha perso il suo miglioramento Sta facendo un nuovo miglioramento No ma si divertono Poi adesso è intelligente Veramente intelligente